Nell'ambito della rassegna incontro con l'autore il liceo classico Nicola Zingarelli di Ciorignola ha organizzato la presentazione del libro di Natale Labia edizioni Il Castello Salvatore Tattarella il sindaco di tutti. Il sindaco di tutti non perché Salvatore Tattarella sia stato un sindaco ecumenico assolutamente no sindaco di tutti perché oltre a essere stato eletto con la famosa legge 81 quindi direttamente dal corpo elettorale subito dopo la vittoria ha aperto le porte del municipio a tutte le forze attive della città senza far distinzione tra appartenenze politiche e soprattutto tra appartenenze partitiche quindi questa apertura alla città lo ha fatto diventare il sindaco di tutti. Oltre all'autore sono intervenuti due esponenti di spicco della politica italiana Massimo D'Alema e Francesco Paolo Sisto con loro anche la famiglia Tattarella e tanti cittadini. D'Alema lo ha ricordato così? Io credo, naturalmente parlo da avversario politico diciamo ma sicuramente Salvatore Tattarella raccogliendo anche l'eredità di suo fratello con il quale ho avuto un rapporto più diretto nei miei anni baresi perché lui era membro del consiglio regionale eccetera insomma hanno contribuito e lui ha contribuito molto ad un rinnovamento della destra italiana e ad una qualificazione della destra come forza di governo. Il parlamentare Francesco Paolo Sisto aggiunge Un ricordo non basta, io l'ho conosciuto con la toga poi l'ho rivisto in politica ma l'immagine di Salvatore Tattarella con la toga è stata sempre prevalente un avvocato della gente comune, un politico che si è battuto per la gente comune sempre allegro, sempre compagnone, sempre un uomo sui marciapiedi come io camminavo e cammino sui marciapiedi, mi sembra che c'è da ricordarlo con gioia ecco se potessi scegliere una parola per ricordarlo lo ricordo con gioia. Quanto manca a Cerignola un sindaco come Salvatore Tattarella risponde il figlio Fabrizio e sono i cerignolani a dirlo prima di lui e dopo di lui nessuno più come lui.